accendilo tu questo cuore che è spento la vita di un tifoso e in mano a una squadra quella squadra sei tu buongiorno amici dello zoccolo duro buongiorno 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 direttamente da largo carrobbio oggi siamo qua allora non voglio parlare di squadre voglio fare una chiara una chiarificazione si dice così voglio chiarire il discorso arbitrale senza additare una squadra piuttosto che un'altra in modo tale che tutti capiscano i miei discorsi all'avanguardia sapete che scherzosamente dico di essere il veggente di youtube perché faccio dei discorsi che poi si avverano molto tempo dopo no quindi io voglio parlare del discorso arbitrale non a favore di uno a sfavore di una ma a livello generale poi del mila dei nomi depressivi del mercato che non faremo e quello poi ne parliamo voglio parlare proprio del mondo arbitrale un po lo l'ho accennato ieri il vero problema del mondo arbitrale oltre a essere una setta segreta che non dovrebbe essere dovrebbe essere una roba anzi più trasparente possibile in realtà tutto nascosto tutto sembra tipo non so un organo a parte no invece non dovrebbe essere così il problema vero e rimarrà così finché non cambieremo questo è perché si vuole mettere non ho mai capito il perché si vuole mettere forse per detenere il potere tutto nelle mani di una persona però poi alla fine si mettiamo il val ma alla fine deve decidere l'arbitro è cioè non è che cioè deve decidere lui deve decidere lui cioè ci tengono proprio al fatto che no però poi sì però poi deve decidere lui è che è una cosa che non ha molto senso cioè perché deve decidere una persona sola può essere pure il più bravo del mondo è ma se decide una persona sola è un po come in dittatura no può sbagliare può sbagliare può farsi prendere dalle emozioni può farsi condizionare non deve decidere una persona sola ribadisco noi ne paghiamo sette ogni partita noi laia il calcio gli spettatori decidete voi chi lo paga chi li paga la pubblicità le tv chiedete decidete voi chi li paga ma sempre sette ne paghiamo perché noi paghiamo l'arbitro paghiamo i due guardaline paghiamo il quarto uomo e paghiamo tre in sala var sono sette se noi ne paghiamo sette perché deve decidere uno solo non li vuoi far decidere tutti e sette perché magari non tutti possono rivedere l'episodio va bene ma siccome abbiamo questa fortuna di avere ormai il var lunga vita al var lunga vita al var meno agli arbitri abbiamo la possibilità che chi guarda il var così come lo guardano gli ex arbitri no marelli quando fa il commento in diretta non è sul campo è come noi che guarda a televisione ok magari allo stadio lui non è allo stadio però ci sono anche quelli che guardano allo stadio vedono poi lo rivedono e danno un parere molte volte il parere subito è quello corretto molte altre volte poi lo riguardi forse era così no di conseguenza se c'è la possibilità che tre o più persone possano vedere questa cosa dal dalla televisione ma metti una votazione metti una votazione è rigore non è rigore rosso non è rosso è fuori gioco il fuori gioco per fortuna quello che cosa sembrato matico e vabbè metti una votazione e basta così hanno deciso in quattro in cinque io anzi ne metterei parere mio personale ne metterei quattro al var ne metterei quattro che se sono due due se sono due due allora si chiama l'arbitro l'arbitro va a vedere al monitor e decide l'arbitro ma se sono tre a uno o quattro a zero non c'è manco bisogno che l'arbitro va al monitor non c'è bisogno hanno già deciso così in sala var e hanno deciso in quattro non che decide uno se in quattro tutti e quattro vedono che rigore è stato in dio sarà rigore non c'è bisogno di eh no qua eh no qua non può intervenire perché l'intensità non si capisce dal monitor ma guardando in dinamica capisci ragazzi cioè prendiamoci chiaro guardando in dinamica si capisce se è una spinta lieve se è troppo poco se se non è troppo poco non ti sto dicendo che devono decidere i tifosi o devi mandare perché se tu mandi l'arbitro al monitor poi l'arbitro al monitor 99 per cento è obbligato a fare quello che gli hanno mandato a fare è pure inutile che lo mandano anche tutta la pressione cioè lo mandi al monitor è difficile che cambi idea no mentre invece se sono lì al bar tranquillamente ognuno vota scelgono per me sì per me no se sono pari va l'arbitro a vedere se sono tre per il no no se sono quattro per il no no cioè mi sembra una roba molto semplice no fatemi sapere cosa ne pensate in modo tale l'idea è quella di rendere più collegiale la scelta e quindi giusta e quindi democratica e meno personale cioè non è l'arbitro che deve decidere da solo perché può sbagliare cerchi tanto poi è un bene anche per loro perché invece di pagarne uno ne paghiamo di più no e soprattutto altre due cose importanti prima cosa che questa io la porto avanti da un bel pezzo vedo che adesso anche quello delle iene ha detto la stessa cosa che io dico da parecchio tempo perché non si parla mai di quello del bar perché ogni volta che c'è un errore che magari fa il bar si parla dell'arbitro arbitrato questo arbitrato e non si parla di quello che stava al bar che ha preso la decisione sbagliata perché poi tutte le colpe vanno sull'arbitro però magari ha sbagliato il barista si parla di più del bar sapere chi è stato che poi facendo la collegialità decade anche questo no perché tanto sono in tanti a maestro non aver sbagliato tutti cazzo ultima cosa io vi dico un po di robe poi scrivetemi il vostro pensiero ultima cosa la trasparenza la sala var con le telecamere deve essere live live che tutti possono vedere e ascoltare cosa c'è di segreto nella sala var se tu devi ma scusa tu stai applicando il protocollo devi fare quello che si è chiamato a fare ma perché uno non lo può vedere e sentire che deve vedere dopo open bar con le cose tagliate e montate cioè è come se la polizia è ripresa e non la devi riprendere perché devono fare le robe in segreto c'è niente di segreto il bar deve essere live con una telecamera live così durante quando ci sono le pause ma è meglio anche per le televisioni quando ci sono le pause che stanno decidendo per un fuorigioco per un rigore tu guardi la discussione che c'è uno che dice per me l'ha toccato no guarda forse troppo lieve riguardiamolo da 1003 da 1004 fammi vedere la pipì live lo fai vedere live in televisione senza nascondere niente è così difficile e questo ribadisco un discorso che non vale non è un discorso a squadra è proprio sull'operato del mondo arbitrario fatemi sapere cosa ne pensate iscrivetevi al canale mettete un bel like oggi per fortuna non mi saluta nessun ubriaco a bordo quindi possiamo andare avanti sentirei il poveriggio eh ciao belli